ciao io sono alice nella mia rubrica just my motivation ti darò tre motivi per leggere un libro come no non sarà un libro tecnico sarà un romanzo che si legherà ad un aspetto del nostro essere safety leader il libro di oggi è a babbo morto di zero calcare edito da pavo publishing te lo consiglio se fai i corsi ai lavoratori se sei appassionato di citazioni perché è un racconto di natale te lo dico in maniera molto brutale magari guarda il video lontano dai suoi figli babbo natale è morto suo figlio non ha le stesse sue capacità ed accade di tutto viene arrestato per mancanza di tutela di sicurezza e sfruttamento gli elfi manifestano le renne prendono sopravvento durante un tafferuglio gaetano l'elfo viene ucciso e la figlia lo vuole vendicare non ti dico come finisce se vuoi ci sentiamo in separata sede ma ti consiglio di leggerlo per calarti nei panni degli operai guardare il mondo con i loro occhi ti aiuta a essere più efficace nella comunicazione con loro sia in aula che durante un sopralluogo e poi guarda è un fumetto e lo legge veramente veloce cosa ne pensi? scrivimi nei commenti la tua esperienza alla prossima e buon natale grazie a tutti